Musica L'ex sindaco Gianni Moscherini invita l'amministrazione a passare subito ad Acea Auto 2 dopo la sentenza del Consiglio di Stato. L'assessore Sergio Serpente invita la maggioranza a cercare un'intesa sulla questione del passaggio ad Acea Auto 2 del servizio idrico. Tragico ritrovamento a Montalto, un'asina è stata trovata morta sul ciglio della strada a pochi metri dall'Aurelia, l'animale è stato incappucciato e legato, indagano i carabinieri. Nuoto Luca Mencarini è il nuovo campione del mondo juniores dei 200 d'orso e il tritoncino ha conquistato l'oro migliorando il record italiano. Buongiorno e ben trovato in un nuovo appuntamento con l'informazione del Tg dell'Alto Lazio. Il comune di Civitavecchia non ha altra via se non quella di aderire una volta per tutte ad Acea Auto 2. A dirlo era stata prima una sentenza di giugno in cui si dice che il comune non ha competenze in materia idrica, successivamente lo ha detto il Tg del Lazio che obbligava il comune ad aderire al Lato 2. Sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato. E a dirlo ora è l'ex sindaco di Civitavecchia Gianni Moscherini che ha anche annunciato una denuncia alla Corte dei Conti per i 4 milioni di euro circa impiegati dall'amministrazione comunale proprio sulla rete idrica. Sentiamo in particolare nell'intervista al leader dell'opposizione. Tre sentenze che obbligano il comune a passare ad Acea Auto 2. Una lettera che sarà scritta dall'opposizione al presidente della Regione Lazio e una possibile denuncia alla Corte dei Conti. Nei fatti questa amministrazione ha inannellato altre sentenze negative sull'acqua che non sono giustificate. I comportamenti di questa amministrazione da un anno da quando si è insediata sulla questione idrica è fuori legge. Quando ancora eravamo noi ad amministrare il comune facemmo ricorso, votammo l'iniziativa dell'ingresso in Ato 2, fece ricorso Petrelli. Petrelli perse questo ricorso e il magistrato ingiunse al comune di entrare immediatamente in Ato 2. a Ato 2 prendersi immediatamente il comune e qualora ambe due non avessero fatto il loro dovere intimava il presidente della Regione di nominare un commissario ad acta che facesse quello che il comune e Ato 2 non avevano fatto. Bene, nel momento in cui loro si insediavano sull'acqua dovevano eseguire questa sentenza. Quindi manderemo adesso immediatamente una lettera a Zingaretti con la quale ricorderemo questa ingiunzione e gli chiederemo di nominare un commissario ad acta. Seconda questione. Hanno perso con Port Utilities perché questo sindaco si inventa sempre cose per dirottare l'attenzione dei cittadini. Quindi si è inventato che il porto vende l'acqua a poco, anzi la vende a troppo, però non entrano i soldi per il comune. Non entrano i soldi per il comune e quindi cosa fa il comune? Ha aumentato la tariffa di Port Utilities, tra l'altro in maniera illegittima perché non può aumentare la tariffa di uno perché si chiama Porto. Port Utilities fa parte di quell'elenco delle industrie che se comprano l'acqua dal comune la pagano X. E non è che ci può essere un'altra decisione fuori dal consiglio comunale perché le tariffe le decide il consiglio comunale con la giunta che dice che il porto deve pagare di più. Ora una stupidaggine del genere non poteva che concludersi come se è conclusa con una sconfitta del comune per cui l'azione decisa dalla giunta viene definita illegittima. Il comune non è titolare dell'erogazione idrica. La terza è arrivata adesso, questi giorni, la sentenza favorevole al codici il quale riconferma ancora una volta che il comune non è titolare dell'erogazione idrica quindi basta con questa barzelletta che si sta continuando con questa cosa che è stata detta in questi giorni no no ma noi faremo un'azienda speciale. Ma che azienda speciale devi fare? Devi eseguire quello che è già stato detto e cioè l'ingresso immediato in Ato 2. Solo così si rifà la rete idrica, si rifanno tutti i contatori e si evitano le estati come quella ultima o periodi anche fuori dell'estate dove si è avuto non solo l'arsenico ma addirittura i rubinetti che versavano acqua sporca ed è durato per molto e ci sono ancora quartieri dove l'acqua non arriva quindi la situazione è enormemente peggiorata. Sergio Serpente, assessore al lavoro e alla viabilità che in questi giorni sta fungendo da sindaco per la contemporanea assenza di Tidei e Luciani commenta la sentenza del Consiglio di Stato sul passaggio a Ato 2 e si augura che questo non porti ad altre divergenze politiche in maggioranza ma sentiamo direttamente le parole di Serpente in questa intervista. Serpente, in molti si sono affrettati a dire che le sentenze vanno rispettate dopo quanto deciso dal Consiglio di Stato per quel che riguarda l'acqua pubblica però lei dice che è una sentenza che va letta bene. Che significa? Allora io tengo a precisare che in questo momento sono sostanto reggente per fatti ordinari questo è un problema molto grande per la città è un problema che la città già più volte negli anni ha fatto delle battaglie su questo argomento dove c'è anche delle prese di posizione nei programmi elettorali perciò io non voglio scaparcare, adesso rappresento l'amministrazione comunale non voglio scaparcare nel sindaco la giunta dico soltanto che quando arriverà il sindaco valuteremo bene tutti insieme con la giunta e la maggioranza l'aspetto di questa sentenza le sentenze vanno rispettate ma questa sentenza nasce dalla vendita di chi ha ricorso quando HCS era in vendita al 60% praticamente fecero questo ricorso perché HCS diventava privata siccome noi crediamo che l'acqua deve essere pubblica questo ricorso logicamente è stato vinto da questi ricorrenti perché il giudice si è basato su quel tipo di ricorso adesso bisogna vedere all'interno nostro cosa intendiamo per pubblico se intendiamo andare a tutue o fare un discorso più in house e vedere le capacità sia finanziarie che ci abbiamo e poi il ritorno che i cittadini possono avere Senta, il suo partito si è praticamente già esplesso sinistra ecologia e libertà dice l'acqua deve restare pubblica proprio al 100% il PD invece è forse più possibilista nel passaggio a dato 2 può creare nuovamente problemi questo da un punto di vista politico tra voi e il partito democratico? Io capisco la tua domanda perché fai giornalista oggi non sono in grado di potermi esprimere perché rappresento l'amministrazione comunale io aspiro che ci sia un confronto democratico da tutte le forze ci sia una condivisione perché i cittadini sono stanchi di dividerci tra guerfi e chibelini voglio una risposta serena una risposta che sia per la città la migliore per il proseguo dei cittadini stessi nella nostra comunità I commercianti di Corso Marconi hanno scritto una lettera di protesta all'amministrazione comunale lamentando lo stato del porticato degradato e sporco secondo quanto dicono passeggiare sotto i portici, scrivono i commercianti vuol dire muovere passi in mezzo a una porcilaia cartacce, schermetti di animali, piccioni e cani immondizia di vario genere sono una costante per non parlare delle macchie d'olio o di acqua sporca che prima venivano rimosse dagli operatori ecologici e ora invece danno un'ulteriore immagine di degrato a questa parte del centro la nostra, concludono, è una protesta corale nella speranza che ci sia la volontà da parte del sindaco e dell'amministrazione di porre fine a questo fatto i gestori degli stabilimenti balneari tirano un primo bilancio della stagione e non è certamente positiva gli incassi fanno registrare un calo che uscilla tra il 30 e il 35% dovuto soprattutto al maltempo e alla crisi come sentiamo in questo servizio? un calo che viaggia tra il 30 e il 35% quello fatto registrare nelle spiagge e negli stabilimenti balneari del nostro litorale la stagione estiva sarà dunque piuttosto scarsa per chi opera nel settore colpa soprattutto delle condizioni meteorologiche secondo quanto lamentano gli stessi operatori del settore con l'estate che è iniziata decisamente in ritardo rispetto agli anni passati praticamente da luglio visto che maggio e giugno sono stati pessimi dal punto di vista meteo oltre a questo sempre stando a quanto dicono i gestori degli stabilimenti c'è da tener conto anche della crisi che ha fatto in modo che venisse preferita la spiaggia libera rispetto a quella che offre lettini e ombrelloni a prezzi che, come sottolineano i titolari degli stabilimenti balneari sono fermi ormai da tre anni a questa parte così come sono calati anche i consumi in quegli stabilimenti che offrono un servizio al ristorante anche in questo caso il calo oscilla tra il 30 e il 35% in calo addirittura anche la vendita dei gelati poi, a seconda delle zone ci sono anche lamentele di diverso tipo per esempio nella zona sud della città c'è chi si lamenta con l'amministrazione per l'assenza di parcheggi mentre più al centro lamentano il problema dell'erosione soprattutto alla spiaggia della Marina che rende difficile la sua fruizione Nella notte tra il 2 settembre 2013 e il 3 settembre a partire dalle 23 sarà eseguito un intervento di disinfestazione dagli insetti alati nelle zone di Borgata Aurelia Pantano, zona industriale Fossi, cimiteri Santa Lucia, via Tirzo Largo Acquaroni via dei Medici quartiere San Gordiano nelle vie via del Tiro a Segno compresa area limitro fa il supermercato Con del Mare Largo Vinciari geodetico e limitrofe viale delle Sterlizie piazzale Fior di Loto via dei Gladioli via dei Gerani via delle Viole si raccomanda agli abitanti di chiudere le finestre e non lasciare fuori indumenti alimenti e animali in caso di maltempo il servizio sarà rinviato a data da destinarsi orrore a Montalto di Castro un'asina è stata trovata morta ieri sera intorno alle 22 in località alle Murelle a pochi metri dalla strada strada statale Aurelia una vera e propria esecuzione quella eseguita dai boia nei confronti dell'animale che lascia pensare ad un avvertimento l'asina è stata infatti trovata legata con il filo di ferro incappucciata e lasciata abbandonata sul ciglio della strada ad accorgersi dell'inquietante presenza è stato un agente dell'istituto di vigilanza privata l'animale è stato rinvenuto con le zampe legate e la testa avvolta da una busta di nylon sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Toscania il veterinario dell'asla di Tarquinia Vincenzo Presciutti che ha dichiarato una morte per soffocamento il professionista ha anche rilevato con lo strumento la presenza del microchip che lascerebbe indicare il comune di Canino la provenienza dell'asina non ho mai visto fare una cosa simile verso un animale ha detto il veterinario nessun segno d'arma da fuoco l'asina è morta per soffocamento al baglio degli inquirenti le ragioni del tragico gesto tra le ipotesi più accreditate ci sono proprio quella di un avvertimento nei confronti di qualcuno oppure l'eventualità che l'animale sia stato rubato e durante il trasporto sia caduto e quindi caprettato abolizione dell'imu agricola sui terreni agricoli e i manufatti ad uso agricolo fa tirare un sospiro di sollievo alla categoria afflitta da una serie di congiunture negative il taglio dell'imu agricola è un importante segnale spiega l'assessore regionale all'agricoltura caccia e pesca Sonia Ricci per un settore che può e deve rappresentare un volano per la nostra economia solo nel Lazio dice la Ricci le aziende agricole sono circa 98 mila e certamente il venir meno di una tassa onerosa permetterà agli imprenditori di poter investire le risorse risparmiate nelle proprie attività un segno di speranza che incoraggia le imprese una boccata di ossigeno utile a superare la crisi economica riconoscendo anche l'importanza strategica di un settore indispensabile per la ripresa di tutto il paese e nel Vitervese esulta la Col di Retti che parla di decisione avveduta che riconosce il ruolo ambientale sociale e culturale della nostra agricoltura che gran parte ha nella produzione di quei beni comuni che il mercato non rimunera come organizzazione ha detto Andrea Renna direttore della Col di Retti della Tuscia anche a Viterbo ci siamo occupati delle questioni legate all'applicazione e alle aliquote rimarcando più volte la necessità di eliminare questo balzello esigenza ribadita anche durante la nostra recente Assemblea Nazionale di Luglio ora accogliamo con grande soddisfazione la decisione del governo a Tarquinia l'Università Agraria è già al lavoro si va verso la rimodulazione in diminuzione della seconda rata della corrisposta dovuta dagli utenti concessionari spiega l'assessore al bilancio Antonio Peparello il provvedimento sarà preso nella prossima giunta esecutiva previo confronto con il collegio dei revisori gli importi esatti da versare saranno comunicati con lettera agli interessati in questo modo l'ente risponde agli impegni assunti al momento dell'approvazione del bilancio si è presentato nuovamente sotto l'abitazione dell'ex moglie cominciando a citofonare ripetutamente insultandola e minacciandola di morte i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ostia hanno arrestato un pregiudicato romeno di 42 anni con l'accusa di stalking ai danni della sua ex moglie una 43enne romena residente ad Ostia nei mesi scorsi l'uomo era già stato denunciato dalla donna per i maltrattamenti subiti e nel mese di luglio i carabinieri gli avevano notificato l'ordine di allontanamento dall'abitazione familiare e il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi generalmente da lei frequentati nonostante ciò ieri pomeriggio l'uomo si è presentato nuovamente sotto l'abitazione l'ex moglie spaventata ha contattato il 112 e quando i carabinieri sono giunti sul posto hanno sorpreso l'uomo che continuava a minacciare la donna qualora non fosse tornata a farlo vivere con lui questa volta però per lo stalker si sono aperte le porte del carcere capitolino di regina Celi dove adesso rimane in attesa di essere interrogato dal giudice del tribunale di Roma rincorrono i ladri e ne fanno acciuffare uno segnalando il suo nascondiglio protagonisti dei cittadini di Fiumicino che hanno permesso l'arresto di un rumeno di 40 anni per tentato furto e danneggiamento aggravato tutto è accaduto dopo la segnalazione di un furto in atto in un'abitazione di via della Scafa l'autoradio del commissariato di zona si è subito recata presso il luogo segnalato per le verifiche a loro arrivo gli agenti hanno trovato alcuni cittadini che dopo aver rincorso uno dei ladri ne hanno indicato la via di fuga ai poliziotti che lo hanno scovato mentre cercava di nascondersi in un fossato condotto presso il commissariato di Fiumicino identificato il romeno è stato arrestato polemiche a Tolfa per la realizzazione del nuovo campo sportivo polivalente per l'ennesima volta l'amministrazione comunale punta alla costruzione di una nuova cattedrale nel deserto tuonano i consiglieri d'opposizione Adriano Ciambella e Marcello Chiavoni del PD Antonio Marini e Marta Ceccarelli del PCI che criticano fortemente la giunta Landi decisa a costruire in località a Poggio Cedraulli un campo di rugby che oggi dicono dalla minoranza risulta soltanto uno spreco di denaro dei cittadini in questi giorni in proposito è stata avviata una raccolta di firme per contrastare l'erigenda opera e in poche ore il documento ha ottenuto numerose sottoscrizioni il campo da rugby dovrebbe essere realizzato in una zona della periferia di Tolfa distante 5 km dal centro abitato ed in aperta campagna il progetto spiega Adriano Ciambella risale al 2005 e prevedeva la realizzazione di un campo di rugby vista l'allora presenza di una squadra di rugby che avrebbe potuto soffrire del campo oggi la squadra e la società non esistono più e il progetto iniziale del campo si è trasformato in un'opera polivalente che costituisce una spesa superflua soprattutto in un periodo di grande crisi come questo che stiamo attraversando e l'amministrazione comunale cerca il centesimo dai cittadini per poter chiudere il bilancio ma il primo cittadino collinare Luigi Landi replica a tono e spiega le motivazioni della sua scelta di portare a compimento l'opera il procedimento è iniziato anni fa e ora con i soldi del finanziamento in mano non possiamo dire no alla realizzazione di questo impianto che diventerà polivalente il finanziamento non si può girare per altri scopi quindi se diciamo no al campo perdiamo il contributo e ciò mi sembra uno spreco il campo non servirà solo per giocare a rugby ma sarà polivalente ho già ricevuto la richiesta di alcune società sportive di diverse discipline e passiamo allo sport ai mondiali juniors di Dubai Luca Mencarini si tinge d'oro nei 200 d'orso sentiamo il servizio uno straordinario Luca Mencarini corona il sogno di una stagione e nel giorno di gare conclusivo dei campionati mondiali juniors la sua ultima esperienza nella competizione internazionale della categoria il tritoncino sale sul tetto del mondo e si mette al collo la medaglia d'oro nei 200 d'orso facendo risuonare l'inno di Mali in tutto lo stadio del nuoto di Dubai negli Emirati Arabi è una favola bellissima quella scritta da Mencarini che inizia con la batteria della mattina nella quale il giovane nuotatore mette in acqua tutta la sua voglia e determinazione andando a toccare la piastra con il tempo di 1.59.62 che gli regala la prima piazza nella classifica generale e il ticket per la finale del pomeriggio la gara è di quelli speciali dopo due virate Mencarini occupa la quinta posizione poi il cambio di spasso ai 150 metri il tritoncino recupera e si prende la terza posizione ma la gara si decide nello sprint finale che Mencarini chiude con il pazzare pazzesco di 28.07 e con l'incredibile tempo complessivo di 1.57.92 il crono che regala l'oro al nuotatore azzurro oltre a migliorare di un secondo e mezzo il suo personale sostituisce anche il record italiano Juniors nei 200 d'orso che apparteneva al compagno Damiano Lestingi altro campione che appartiene alla scuderia di coach Fabio De Santis al tocco della piastra lo sguardo veloce al tabellone poi l'esplosione di gioia che si consuma in un pianto liberatorio per l'immensa soddisfazione che si prova quando si corona un sogno l'azzurrino si lascia alle spalle il giapponese Keita Sunama 1.58.21 e lo statunitense Connor Green 1.58.42 sono senza parole queste le prime dichiarazioni del tecnico Fabio De Santis appena dopo la finale ho visto la gara in streaming e ho ancora la pelle d'oca la prestazione di Luca è stata impressionante ha affrontato la gara con una concentrazione e determinazione straordinarie negli ultimi 50 metri avevo il cuore che batteva all'impazzata perché è riuscito a tirare uno strappo incredibile sfoggiando un dorso e una forma fisica invidiabili sono sicuro che ora Luca starà toccando il cielo con un dito dal gradino più alto del podio non vedo l'ora di abbracciarlo e dirgli quanto sono soddisfatto una medaglia d'oro ai campionati mondiali juniores un record italiano e il miglior tempo personale è di certo il modo migliore per lasciare la categoria cadetta e iniziare un nuovo ciclo che tutti ci auguriamo sia ricco di risultati ed emozioni tanto quanto lo è stato il precedente Nella amichevole precampionato andata in scena sabato al fattori la CPC batte 2 a 0 il Civita Vecchia miglior prestazione a oggi è chiaro che comunque da qui a altri 15 giorni bisognerà sempre migliorare perché comunque il campionato sappiamo quanto possa essere duro e per arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati c'è ancora molto da migliorare secondo me è piaciuto soprattutto l'approccio della squadra contro un team che ad ogni modo partecipa a un campionato superiore al vostro sì sicuramente abbiamo migliorato anche sotto questo punto di vista magari altre partite le avevamo prese un po' sotto gamba o forse ci eravamo resi conto di essere un po' vittima sacrificale parlo magari l'amichevole contro l'ostia mare mentre oggi vuoi magari per l'importanza del Memorial che comunque la compagnia portuale teneva molto vuoi perché comunque ripeto bisogna sempre migliorarci abbiamo sicuramente approcciato in maniera migliore e dobbiamo ripeto sempre migliorare la difesa l'altro anno della CPC non aveva convinto molto il tuo arrivo ma è sembrato subito che aver dato peso sostanza il reparto sempre ben chiamato ordinato ma grazie e complimenti nel senso io mi metto a disposizione della squadra dei compagni e cerco di meditare il massimo in ogni partita in ogni amichevole è chiaro che l'anno scorso sinceramente non ho seguito poi molto il campionato essendo impegnato comunque nel campionato di eccellenza però sì effettivamente ho saputo che sono stati incassati oltre 50 gol che per una seconda classificata insomma non sono pochi quest'anno cercheremo di migliorare magari diminuendo i gol subito probabilmente si spera di aumentare anche la posizione in classifica dell'anno scorso Massimo Emiliano a due settimane dal campionato sicuramente dal Civitecchio ci si aspettava di più una prestazione probabilmente al di sotto dell'aspettativa anche dopo la prova che si era vista nel triangolare vinto sì sicuramente è normale che stiamo in preparazione magari ci sono degli alti e dei bassi lavoriamo da poco insieme questo gruppo è stato fatto da poco e quindi è normale che ci possono essere alti e bassi come magari abbiamo fatto quella sconfitta la prima volta poi dopo il torneo abbiamo vinto abbiamo fatto buone prestazioni e oggi magari siamo rincappati in una prestazione non tanto buona però niente io sono fiducioso da parte mia mi spiace che oggi sto soffrendo con questo piccolo problema al piede non ho potuto giocare solo 10 minuti in quarto d'ora e niente dai io sono fiducioso che lavorando possiamo migliorare e possiamo dire la nostra dicevamo in telecronica al di là del tuo problema che era stato anticipato che ti ha condizionato anche in settimana ti condiziona tuttora e nonostante tu poi abbia giocato un buonissimo scampolo di Chiara mettendo una palla ghiottissima per Romagnoli che ha dilapidato questa occasione e forse mentalmente il Città Vecchia a livello psicologico deve lavorare molto l'approccio è stato veramente deludente sotto questo punto di vista per una squadra e comunque deve affrontare un campionato di eccellenza e parte con una penalizzazione Sicuramente sappiamo che stiamo indietro sappiamo che dobbiamo lavorare bisogna migliorare e presto perché abbiamo tra due settimane inizio il campionato niente come detto è normale che l'approccio è stato un po' sbagliato perché i primi dieci minuti abbiamo preso due gol un po' molli e niente dai anche su questo purtroppo quando si lavora con una squadra nuova e tutti i giocatori nuovi è normale che possono succedere queste cose dobbiamo migliorare per cercare che non succedano più grande successo per il primo slalom Cività Vecchia Terme Traiane la gara di velocità e abilità in salita di scena ieri sulla strada provinciale 7 bis a Sicari ha infatti riscosso un notevole riscontro di pubblico questa era la nostra ultima informazione grazie per averci seguito vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione e arrivederci ora siamo con Fabrizio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti